Punto della grigia della razza dell'Olmo, si va agli ordini dello starter e i cavalli che sono partiti. Ma in vantaggio proprio Matrioska nei confronti di Sanni Marti a largo Compton Time, terza corsia per Brezza Marina che scavalcano Forza Loparti a contatto in coda scorsese. Quando si va ad affrontare la prima piegata sotto un'intensa pioggia, Matrioska al comando nei confronti del compagno Compton Time che è all'interno Sanni Marti, quindi Brezza Marina, non Forza Loparti a scorsese. Così praticamente fin dal via si entra in dirittura per il passaggio di fronte alle tribune. Guida Matrioska con in scia Sanni Marti, sempre largo Compton Time con in schiena Brezza Marina all'interno scorsese, a ridosso in coda, non Forza Loparti. Si transita sul traguardo, si va verso la seconda curva con le posizioni immutate. Matrioska al comando, Compton Time a largo all'interno Sanni Marti, quindi Brezza Marina rimontata all'interno da scorsese e chiude, non Forza Loparti. Nessun accadimento anche a poco meno di mille metri dalla conclusione, Matrioska che si mantiene in vantaggio, sempre tallonata da Sanni Marti con a largo Compton Time. Terza corsia si muove, adesso non Forza Loparti, che dalla coda gira Brezza Marina e Scorsese, che comunque rimangono a contatto con Matrioska, che ha 800 scarsi dalla conclusione. Figura ancora in vantaggio nei confronti di Sanni Marti con a largo Compton Time, quindi Scorsese con all'esterno non Forza Loparti, in coda è scivolata. Adesso Brezza Marina. Complettamento della piegata, ingresso in addirittura con la grigia Matrioska che si mantiene in vantaggio nei confronti di Sanni Marti, mentre all'esterno ci prova anche Non Forza Loparti. Sanni Marti che prova ad andare a prendere Matrioska che a 200 dalla conclusione figura ancora in vantaggio. Sanni Marti e Non Forza Loparti che prova ad andare a prendere Matrioska. Matrioska che comunque ha 2-3 di margine nei confronti di Sanni Marti, vince come vuole Matrioska davanti a Sanni Marti al terzo Scorsese. 3-1-6 è l'ordine di arrivo ufficioso per quanto riguarda questa terza corsa del pomeriggio. Vince la netta favorita Matrioska, colori della Nazza dell'Olmo, il treno di Riccardo Menichetti, in sella Germano Marcelli. 1-22 la quota.